E' usciuto ormai da quasi una ventina d'anni con questa dedica a abbracciarlo a quello che... 7.71 si colloca al secondo posto, va a superare Marco Isebelli. Salve! 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 Sono fortissimi, ma la Sikorska agli europei è scesa. Ora un tentativo per lui, per farmi giura. Viene l'aiuto del mondo di Padova, ecco le mani di Padova per darsi... ...è partito per tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti